No, no, è curioso... No, non ti tocca. Ssss! 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 Via! Mi cambiano una sopa. Via! No, sì. Deca, però. No! Dai, portalo via. Lasciaglielo tu. Ssss! 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 Un divertimento. Sto facendo un video. Mettitelo. Non vado le montatevi via comunque. Parli, se vuole la mia macchina foto, però posso. Mettila sotto la macchina. Ssss!